Fondina ambidestra e postal svizzaro, fondina in cordura, fondina semplice, economica, non troppe pretese ma essenziale. Abbiamo dei bottoni automatici su entrambi i lati speculari con dei passanti che la rendono valida sia a destra che a sinistra. Anche la parte di ritenzione si può spostare sia a destra che a sinistra. E' una fondina col portacaricatore anteriore, per quello di riserva, elasticizzato per cui ha una buona ritenzione. Pur essendo economica è ben rifinita, è costruita bene ed è adatta alle large out. Infatti possiamo vedere, proviamo una beretta 92, va perfettamente. Proviamo una Colt 45, una Glock, perfetta. Una Sig Sour, perfetta. La chiusura è a clip, colore nero.